Buonasera a tutti, ben trovati. Mi presento, sono Lara Agosti e all'interno di Fastweb mi occupo di Corporate Social Responsibility. Questa sera siamo qui per il settimo appuntamento di Connessi contro il Bullismo e in particolare tratteremo il tema del gaming. Con noi ci sarà Francesco Fossetti, che abbiamo ben ritrovato perché settimana scorsa abbiamo già avuto modo di chiacchierare, di dialogare insieme sempre sul tema del gaming ma toccando punti diversi, aspetti diversi. Allora, questa sera parleremo di un videogenitore quasi perfetto parafrasando un titolo famosissimo degli anni Ottanta, Un genitore quasi perfetto di Bruno Bettelem, che ha segnato un po' il mondo dell'educazione in generale, nel senso che è stato un libro letto da tantissimi e che ha affrontato un po' il tema della genitorialità e dei ragazzi. Si sono passati tanti anni, il mondo è decisamente cambiato ma alcune cose sono rimaste invariate. Quindi ci piaceva prendere spunto da quel libro che ha segnato veramente la genitorialità di una generazione ed è ancora appunto attuale. Allora, mi presento meglio, stavo dicendo questo è il settimo appuntamento perché Connessi contro il bullismo è una serie di incontri che è partita a febbraio e abbiamo cercato di toccare vari aspetti che avessero a che fare con il tema del cyberbullismo ma che ampliassero un po' la visione e l'obiettivo era quello di dare qualche strumento agli adulti per supportare meglio i nostri ragazzi su tantissimi temi. E quindi siamo partiti dai pericoli della rete con il primo webinar dove abbiamo cercato di delineare quali sono le opportunità ma anche i rischi della rete e quindi a cosa stare particolarmente attenti come adulti che seguono dei ragazzi. Il secondo appuntamento è stato sulla tendenza che a volte noi abbiamo di condividere fin troppe informazioni sui social fondamentalmente in generale sul mondo internet non solo fotografie, non solo video ma informazioni che possono creare imbarazzo o a volte anche danno a noi ma anche ai nostri ragazzi. Il terzo appuntamento abbiamo parlato con Rosi Russo di parole ostili il movimento diciamo così che si attiva per cercare di riportare il linguaggio non ostile in rete abbiamo proprio parlato delle abitudini dei nostri ragazzi cosa fanno frequentemente in rete e a che cosa dobbiamo stare attenti. Siamo poi passati a parlare con Marco Gui un professore dell'Università Bicocca su a che età è giusto dare il primo smartphone ai ragazzi opportunità e rischi e poi abbiamo affrontato il tema del sexting e del revenge porn da due punti di vista grazie all'aiuto di un avvocato e grazie all'aiuto di una psicologa quindi hanno fatto vedere aspetti diversi di questa tematica in base appunto alle loro competenze professionali e poi arriviamo a Francesco che settimana scorsa ci ha introdotto nel mondo del videogaming e in particolar modo abbiamo toccato alcuni aspetti i pregiudizi che ci sono in generale sul mondo del gioco abbiamo analizzato anche l'associazione che a volte si fa tra alcuni videogiochi e il mondo della violenza ma in generale abbiamo analizzato anche grazie all'aiuto del pubblico che è stato prodigo di domande di suggerimenti e di spunti proprio questa associazione tra pregiudizi e il mondo del videogaming e poi Francesco ci ha fornito tantissimi spunti ed esempi concreti di alcuni giochi magari meno noti meno tra virgolette pop ma che al loro interno hanno delle storie molto profonde e che possono aiutare i ragazzi a sviluppare alcune caratteristiche e poi abbiamo appunto parlato di come il genitore può aiutare il genitore o l'adulto in generale come può aiutare il ragazzo a trovare un momento di confronto attraverso il gioco prima di iniziare vi fornisco qualche informazione tecnica è sempre possibile fare domande basta che voi scriviate all'interno dei commenti se seguite su LinkedIn o su Facebook e noi durante questo appuntamento serale risponderemo a tutte le vostre domande la seconda informazione che volevo dare è che saremo accompagnati questa sera da Fiorella e da Maria Civita che tradurranno tradurranno diciamo così questo webinar di Francesco nella lingua dei segni in modo da dare l'opportunità a tutti di seguire più agevolmente quindi io direi che possiamo iniziare introduco Francesco per chi di voi non l'avesse già seguito settimana scorsa Francesco ha trasformato una sua passione che era la passione per il videogaming fin da quando era ragazzo nella sua professione e quindi è un critico fondamentalmente un critico ed esperto di videogaming scrive per tantissime testate e dal 2000 dirige una testata specialistica proprio su questi aspetti è un bravissimo speaker e quindi introduco subito Francesco Francesco ben trovato anzi ben ritrovato grazie grazie è un piacere essere di nuovo qua ecco abbiamo deciso di dedicare ben due puntate al mondo del gaming perché ci sembrava un mondo comunque molto vasto e a chi magari non gioca abitualmente meno noto e quindi sono talmente tanti gli aspetti che ci piacerebbe approfondire che abbiamo deciso di appunto di creare due serate perché una era veramente troppo poco come vi ho anticipato l'altra volta abbiamo parlato dei pregiudizi che ci sono rispetto al mondo del gioco e Francesco ha fornito veramente tantissimi spunti e tantissimi esempi concreti ricordo a tutti che chi volesse rivedere la diretta di settimana scorsa la ritrova sui social di Fastweb sia su Facebook che su LinkedIn quindi chi di voi non avesse avuto modo di vedere quella puntata e fosse invece interessato all'argomento la può seguire io partirei subito Francesco con una domanda sì faccio se posso solo una anticipazione la puntata scorsa era in effetti molto più votata a raccontare i videogiochi e quello che a loro volta i videogiochi raccontano quindi era più contenutistica diciamo aveva un piglio editoriale un po' diverso abbiamo parlato di tanti prodotti per cercare di superare questi pregiudizi la puntata di oggi sarà un po' più operativa nel senso che con tutta probabilità citeremo molti meno prodotti che hanno quello spunto virtuoso quella volontà appunto di affrontare e declinare tematiche anche importanti impattanti ma appunto è più operativa perché parla di sistemi di monetizzazione parla di possibili dipendenze e l'idea era quella di dare da una parte uno strumento per andare magari a raccogliere accogliere quei quegli spunti trovando dei prodotti da proporre anche ai più giovani oggi invece è proprio una puntata che in cui spero di dare delle conoscenze di base per poi operare un controllo su quelli che sono magari invece videogiochi un po' più diffusi e anche quelli un po' più furbetti quando si tratta di appunto sistemi di monetizzazione e appunto aspetti economici grazie francesco per la precisazione partirei subito con la prima domanda hai citato i sistemi di monetizzazione oggi molti giochi l'accesso a molti giochi in realtà è gratuito cioè tu puoi iniziare a giocare senza pagare nulla però poi ci sono altri meccanismi meno tradizionali del pago subito per iniziare a giocare ma che ti permettono di andare avanti di diventare sempre più bravo di avere più cose all'interno del gioco ecco per chi di noi è meno abituato a questo mondo ci racconti quali sono questi modelli che si possono creare all'interno dei giochi modelli di monetizzazione e come funzionano sì allora partirei comunque col dire che nel mercato esiste anche un sistema di vendita molto più classico quindi esistono ancora i videogiochi che si pagano e una volta che li hai pagati sono tuoi per sempre e non ci sono questi meccanismi che tu giustamente citavi di monetizzazione continuativa e questi videogiochi possono arrivare a costare anche 70-80 euro nei pressi del day one quindi quando arrivano sul mercato e poi diciamo che calano di prezzo come qualsiasi bene qualsiasi prodotto anche molto rapidamente quindi comunque un indizio cioè nel senso una cosa che voglio trasmettere è che se un bambino un giovane un ragazzo chiede un obolo diciamo come soglia d'ingresso in un videogioco può ecco essere semplicemente giustificato dal fatto che si tratta di uno dei videogiochi classici venduti diciamo con un sistema tradizionale come giustamente dicevi però ce ne sono ci sono tanti prodotti che appunto attirano anche il pubblico grazie alla loro gratuità vengono chiamati free to play di solito non chiedono assolutamente niente per iniziare o fare cioè per fare in modo che il giocatore inizi l'avventura lo scontro una volta però che ci si trova all'interno di questi prodotti si capisce che ci sono meccanismi che invece puntano a ricevere dai propri utenti un flusso di denaro abbastanza continuo invogliandoli con sistemi più o meno furbi o più o meno legittimi o più o meno trasparenti una cosa importante da dire è che questi meccanismi che adesso andrò poi ad analizzare di monetizzazione continua e continuativa non sono esclusivi dei free to play quindi dei giochi gratuiti anzi molto spesso ci sono anche dei prodotti che in primis si fanno pagare e poi comunque innescano questo meccanismo di monetizzazione continuativa di solito sono quei giochi che hanno una componente multigiocatore che fa sì che si possa continuare a giocare senza una fine sostanzialmente perché ogni partita è una sfida diversa si gioca con giocatori diversi e via dicendo uno di questi prodotti per esempio che mi viene da citare che si paga ma poi innesca anche un sistema di monetizzazione continua è uno dei videogiochi che è sicuramente più famoso e conosciutissimo ed è FIFA FIFA è il classico gioco di calcio esce un'edizione all'anno è il gioco di calcio più venduto e nel nostro mercato insomma sappiamo bene quanto il calcio prenda piede in Italia quindi nel nostro mercato è uno dei videogame più venduti una volta che si paga si entra dentro si può fare la propria carriera si può giocare in locale con gli amici si può giocare anche online ma insomma c'è una modalità che è la più giocata che si basa invece su un sistema di acquisto di contenuti aggiuntivi che cosa si acquista nel caso di FIFA si acquistano dei pacchetti di figurine all'interno dei quali si trovano delle figurine che rappresentano però dei calciatori quindi si possono trovare delle figurine più o meno rare dei calciatori più o meno rari quelli più rari sono anche quelli più forti con queste figurine si compone una rosa ora sto semplificando sostanzialmente poi si va in campo e si sfidano altri utenti prendo l'esempio di FIFA ma in generale questo meccanismo per cui si comprano degli oggetti delle scatole chiuse e non si conosce quello che c'è all'interno si chiamano loot box quindi scatole cui interno c'è del loot che è del materiale di gioco d'accordo? ed è un sistema che va tenuto molto sotto controllo perché in alcuni casi gli elementi che si trovano all'interno di queste loot box sono completamente estetici e quindi non hanno una funzione ludica quindi non permettono di fatto di migliorare le proprie prestazioni nel gioco nel caso di FIFA invece hanno proprio una funzione ludica perché permettono di assemblare una squadra più forte nel caso in cui tu sia fortunato e tu trovi i giocatori opportuni e quindi permettono di essere più competitivo fra l'altro il gioco stesso poi innesca nel giocatore la voglia questa competitività perché ci sono anche dei sistemi di torneistica ufficiale interna per cui nei fine settimana si devono fare un tot numero di partite più partite si vincono più si scalano le classifiche con la prospettiva addirittura di competere nei tornei poi ufficiali e addirittura magari di andare in giro per il mondo quindi di base questo meccanismo nel caso di FIFA e ce ne possono essere anche altri io faccio un esempio che poi i genitori dovranno diciamo assorbire interiorizzare e applicare anche altri prodotti c'è anche un'aspirazionalità l'aspirazionalità che magari viene proprio da che un ragazzo giovane può venire dall'osservazione dei suoi miti in rete cioè ci sono tanti pro player che vengono osservati su Twitch Twitch è una piattaforma di streaming molto concentrata sul gaming e che ovviamente insomma vengono visti alle volte come insomma degli eroi sportivi anche e quindi c'è la voglia di arrivare lì c'è la voglia di competere c'è la voglia di giocare sempre di più fra l'altro sempre su Twitch e sulle piattaforme di condivisione video le stesse aziende tipo chi pubblica videogiochi tende a dare dei contenuti in game questi loot box ai content creator per normalizzare appunto l'atto di acquistarle aprirle e essere felici quando trovi l'elemento più raro quindi le aziende stesse creano un'aspirazionalità però la creano fittiziamente perché molto spesso tanti creator ricevono appunto questi oggetti dalle aziende stesse e questo è un meccanismo su cui i genitori dei videogiocatori devono vigilare costantemente perché il rischio appunto di sentirsi frustrati perché non si riesce a vincere tra l'altro in un ambiente in cui ci sono milioni di giocatori quindi è molto difficile al di là delle proprie abilità davvero riuscire a scalare la classifica quindi il rischio di sentirsi frustrati è tanto e il gioco implicitamente ti dice che spendendo un po' di più e acquistando un po' di queste lootbox hai più probabilità di riuscire a vincere soprattutto fra i giovanissimi e fra chi non ha una gestione diciamo economica del denaro insomma molto lucida questo può assolutamente essere un problema mi viene da citare ho citato FIFA ma ripeto ce ne sono tanti altri di prodotti quindi il consiglio che posso dare ai videogiocatori ai videogenitori è quello di chiedere sempre ai propri figli che cosa si sta andando ad acquistare per capire se è appunto un elemento che innesca questo circolo vizioso oppure se magari è un elemento solo ed esclusivamente estetico facendo però attenzione anche a un'altra cosa che abbiamo citato la settimana scorsa ovvero che ci sono anche delle dinamiche di emarginazione che avvengono all'interno delle community di certi videogiochi che si basano pure sull'elemento estetico quindi un gioco che mi viene da citare è Fortnite Fortnite è free to play non si paga ma ci sono appunto c'è la possibilità di acquistare degli elementi estetici e i videogiocatori di quella di quel gioco le community di quel gioco effettivamente organizzano anche implicitamente quando non invece in maniera anche aggressiva delle scale gerarchiche in cui al vertice ci sono gli utenti che sfoggiano degli abiti più sgargianti più costosi quindi molto spesso anche quando non c'è una funzione specifica di questi oggetti quando questi oggetti non ti permettono di migliorare non è detto che non ci siano rischi quindi controllare sempre anche perché veramente non c'è nessuna sicurezza del risultato si possono anche acquistare decine e decine di queste lootbox senza avere certezza di trovare quello che si vuole e di nuovo lì c'è proprio l'aspirazionalità cioè ci sono i content creator che dicono ah ho trovato questo giocatore e allora molto spesso chi li guarda è propenso a comprare un'altra scatola un'altra scatola un'altra scatola finché non trova quel giocatore però poi molto spesso si va a spendere anche più del costo di un gioco intero e si va a farlo con una frequenza maggiore perché magari ogni mese arrivano delle carte nuove con il giocatore più potente quindi quello delle lootbox è diciamo un rischio concreto fra l'altro è importante anche citare che ci sono alcuni stati che stanno cercando di regolamentare questa cosa eventualmente anche paragonando questa questa pratica al gioco d'azzardo perché di fatto tu stai pagando per ottenere diciamo un elemento che ti permette di vincere diverso è il caso invece di quelli che vengono chiamati battle pass ok il pass da pass battaglia che cosa succede succede che questi giochi che aspirano a restare sulla cresta dell'onda per mesi anni e quindi ad avere una loro continuità vengono di solito divisi in stagioni ok quindi a intervalli regolari viene iniettato all'interno del prodotto una nuova mole di contenuti per rinnovarlo un po' e mantenere appunto l'entusiasmo degli utenti e conservare l'effetto novità queste stagioni di solito vengono accompagnate appunto da un battle pass ovvero un abbonamento una sorta di abbonamento che permette all'interno di questa stagione di ogni singola stagione di capitalizzare il tempo investito nel videogioco cioè più un utente gioca in quella stagione più sblocca un certo numero di oggetti che sono presenti all'interno del battle pass senza il battle pass non li potrebbe ottenere quindi giocherebbe per il gusto di giocare ma non avrebbe necessariamente questo sfogo quindi per esempio faccio proprio un esempio semplice magari all'interno del battle pass c'è fai tre partite sblocchi un vestito più colorato diciamo così se tu hai pagato il battle pass hai pagato questo abbonamento lo sblocchi se tu non hai pagato questo abbonamento si gioca ugualmente non ti toglie nulla il videogioco però non hai la possibilità giocando quelle tre partite ti sei divertito l'hai fatta hai vinto ma non sblocchi quel vestito questo è un sistema secondo me un po' meno aggressivo rispetto a quello delle loot box però io credo che i genitori debbano sempre avviare un discorso con i più giovani che si affacciano su questo tipo di prodotti e debbano far capire che il battle pass non deve diventare una necessità proprio perché non preclude niente nessuna possibilità all'interno del gioco è semplicemente un extra che ognuno di noi deve decidere se acquistare o meno magari anche come forma di supporto ad un prodotto che uno ama io credo che questo sia il modo più sano di vederlo o un gioco magari non l'ho neanche pagato e comunque mi sta offrendo dell'intrattenimento del divertimento su base regolare io investo tanto tempo mi fa anche piacere supportare appunto il team di sviluppo che su base regolare dicevo inietta quei contenuti perché produrre quei contenuti di fatto costa non voglio che passi l'idea che i videogiochi devono essere necessariamente gratuiti e che il lavoro di chi li produce non abbia valore è tutto il contrario però l'importante è che appunto l'acquisto del battle pass sia fatto in maniera consapevole io a me piace quel gioco ci spendo tante ore mi piace anche l'idea di supportare chi lo sviluppa e magari anche di sfoggiare questo supporto come non lo so una medaglia un galliardetto qualcosa di estetico cioè io trasmetto anche agli altri membri della community attraverso quello che sblocco l'idea che io sto pagando quel gioco ma perché mi piace farlo non perché ne sento il bisogno perché altrimenti sono in qualche maniera deficitario rispetto a chi invece lo fa e quindi credo che questo discorso sia molto molto importante da fare con i propri figli nel caso in cui si affaccino su questi su questi titoli se vogliamo proprio fare un brevissimo elenco i più quotati sono appunto fortnite call of duty warzone destiny solitamente sono appunto sparatutto quindi giochi in cui si spara con un accesso gratuito e che sono pensati per essere fruiti sulla lunga distanza grazie francesco quindi se ho ben capito i meccanismi che tu hai raccontato sono due il primo la loot box che è una sorta di scatola regalo chiamiamola così con effetto sorpresa però quindi tu non sai che cosa stai acquistando a priori hai questa sorpresa e la sorpresa può andare su due direzioni o oggetti puramente estetici decorativi che aumentano la bellezza del gioco diciamo così ma che non ti servono nel proprio personaggio ma che non ti servono per tra virgolette andare avanti oppure una seconda tipologia che sono strumenti di gioco strumenti di lavoro cioè degli strumenti che tu trovi in regalo in questa scatola diciamo così che invece ti permettono di fare delle azioni quindi ti permettono di avere un vantaggio nella tua attività ludica invece la seconda modalità che tu hai raccontato è una sorta di abbonamento periodico che ogni tanto ti viene proposto e che grazie a questo abbonamento tu riesci ad accedere cioè non ti serve per giocare tu comunque puoi giocare ma riesci ad accedere a delle agevolazioni di gioco che altrimenti non avresti diciamo esatto esatto ok ecco a questo proposito ci sono anche ci sono anche degli oggetti puramente digitali che possono anche essere acquistati una tantum quella è una cosa ancora diversa magari appunto sono oggetti particolari restano per un mese uno fa un acquisto sono suoi per sempre però questa è una cosa ancora un po' diversa e secondo me molto meno rischiosa rispetto alle altre due che abbiamo appena citato perché le altre due possono degenerare e insomma c'è un rischio concreto che lo facciano soprattutto nei più giovani soprattutto in chi sente questa aspirazionalità che dicevo prima magari vista fra i pro player fra i creator fra gli altri membri della community perché poi non sai mai nemmeno chi ti trovi davanti magari c'è un un giovane di 10-12 anni che si trova davanti un giocatore che ne ha 30 il potere d'acquisto non è chiaramente lo stesso è chiaro che però l'aspirazionalità si crea no? perché si vede il modello del personaggio tutto sgargiante quindi i primi due sono un po' più rischiosi l'altro magari insomma è un po' meno furbesco diciamo come meccanismo certo mi ha colpito anche il tema che tu giustamente hai segnalato nel senso che non c'è nulla di male nell'avere delle attività a pagamento nel gioco nel senso che sono dei prodotti come tutti gli altri la cosa importante ed ecco perché li segnaliamo soprattutto per il pubblico più giovane è il tema della consapevolezza cioè capire bene che cosa sto comprando a che cosa mi serve e anche dare il giusto valore al potere di acquisto diciamo così che stai esercitando è un po' questo il tema perché ripeto se c'è una consapevolezza rispetto a quello che stai facendo non c'è nulla di male cioè sono prodotti quindi assolutamente più che lecito però è proprio questo il tema cioè aiutare i ragazzi a capire quali sono i meccanismi e una volta che tu conosci il meccanismo decidere se ci stai o non ci stai ma in modo consapevole a questo proposito Eusebia ti pone una domanda e quindi te la farei subito e non aspettiamo alla fine Eusebia dice come posso far capire a mio figlio che a volte i content creator ricevono i loot box dalle aziende in un certo senso sono guidati cioè il tema che tu citavi prima alcuni magari non li hanno comperati ma li hanno ricevuti anche per farli conoscere fondamentalmente ecco quindi Eusebia dice c'è un modo per far capire a mio figlio ai ragazzi che c'è anche questo meccanismo? Allora è una domanda molto complessa il modo idealmente chiunque riceve diciamo dei contenuti dalle aziende con finalità promozionali dovrebbe esplicitarlo è anche vero che nel e di solito lo fa è anche vero che nel nel mondo di oggi che è un mondo in cui la condivisione dei contenuti viene molto spesso in diretta cioè in diretta cioè live e con strumenti di lungo formato è un po' difficile che questa cioè che citare esplicitamente diciamo che questi contenuti arrivano direttamente dalle aziende perde un po' efficacia mi spiego meglio finché uno fa una storia su Instagram un post e ci scrive sopra sponsorizzato è chiaro che quell'indicazione resta ben impressa sul contenuto se un videogiocatore fa una diretta di quattro ore e nei primi dieci minuti ringrazia il publisher per averli inviato diciamo i contenuti gratuitamente e poi ne restano altre tre ore e cinquanta in cui invece si perde quell'indicazione di sponsorizzazione e c'è anche un altro problema ovvero che non sempre questi contenuti arrivano dalle aziende ma non perché non arrivano dalle aziende l'aspirazionalità che creano non è problematica cioè se un content creator decide autonomamente di pagare cinquecento euro di bustine perché sta proponendo il contenuto e ha un guadagno perché quel contenuto viene visto e perché gli utenti lo guardano e perché gli utenti lo supportano a volte anche economicamente cioè comunque loro stanno creando un'aspirazionalità in chi li guarda quindi per me l'importante è anche far valutare cioè far capire la differenza di potere d'acquisto cioè i content creator molto spesso investono perché hanno un ritorno che non è direttamente legato al gioco è un ritorno economico è un ritorno di visibilità mentre il figlio di Eusebia sicuramente diciamo avrebbe un ritorno diverso cioè potrebbe spendere per avere un vantaggio nel videogioco però deve essere molto attento a commisurare quella spesa deve essere quindi bisogna spiegargli che c'è proprio una differenza concreta e sostanziale fra chi gioca e chi attraverso il gioco produce contenuti secondo me quella è la chiave più giusta proprio perché appunto ogni tanto ci si muove in delle zone grigie per cui i creator formalmente non vengono sponsorizzati dalle aziende ma anche i soldi che loro investono li investono non perché sono contenti di trovare il giocatore più forte ma perché sono contenti di farsi guardare mentre aprono queste loot box cosa che invece in un utente che non produce contenuti non avviene ecco grazie Francesco ti pongo anche la riflessione di Roberto che dice pur essendo una questione diversa dal tema affrontato la scorsa settimana anche in questa anche questa sera il dialogo genitore figlio è una delle chiavi per aiutarsi a capire come quanto e se fruire di queste microtransazioni esatto infatti io quello che vorrei fare oggi in questa puntata è dare degli strumenti di lettura di quella che è la realtà del videogioco e di quelle che sono i meccanismi di monetizzazione poi ognuno utilizzerà queste conoscenze per parlare con i propri figli e capire in quale situazione si trovano i propri figli e qual è la ragione che magari li può guidare verso certe soglie di spesa non esiste una regola unica applicabile esiste appunto la conoscenza di quelli che sono gli strumenti che le aziende hanno per monetizzare sulla base di questa conoscenza bisogna innescare sempre un dialogo quindi io spero appunto di dare degli strumenti per leggere la realtà più che delle formule per risolvere dei problemi grazie Francesco sempre Roberto dice la chiarezza deve arrivare anche da quel lato soprattutto per il pubblico più giovane che magari non pensa a certe logiche di mercato Francesco ti faccio una domanda molto pratica per chi magari non gioca abitualmente o non ha questa conoscenza così approfondita del gioco ci dai così un'indicazione a spanne di questi strumenti che tu hai citato di quali costi potrebbero avere cioè stiamo parlando di 2-3 euro o stiamo parlando di cifre molto più significative così tanto per capire di cosa potremmo parlare in realtà dipende per quanto riguarda i battle pass i pass da battaglia di solito ci si muove intorno a poche decine di euro 10-20 euro 30 euro nel caso in cui la stagionalità sia molto estesa alle volte fra l'altro ci sono anche dei sistemi virtuosi che permettono di ottenere della valuta non reale valuta digitale all'interno del gioco con la quale puoi acquistare questi pass da battaglia quindi se uno gioca tanto ottiene tanta valuta e si acquista il pass da battaglia e anche questo è una cosa da non sottovalutare perché è anche giusto ogni tanto mettere dei limiti orari è chiaro che non si può neanche cioè se non si spende valuta vera e si spende tempo si possono innescare altri problemi quindi non è che è solo quando si tira fuori la carta di credito che si crea un potenziale problema per quanto riguarda invece le loot box lì la situazione è un po' più complessa nel senso che si può andare anche su tagli di prezzo molto inferiori veramente di pochi euro però appunto senza nessuna certezza del risultato quindi uno può anche comprare 3 euro e altri 3 euro e altri 3 euro e poi alla fine ne ha spesi già 12 il taglio è molto piccolo ma è appunto il fatto che idealmente non c'è un limite il pasta battaglia una volta che te lo sei comprato per quella stagione sei a posto le loot box no non sei a posto grazie Francesco ecco qui ma adesso hai introdotto un altro argomento che è un possibile rischio che è quello un po' della dipendenza tu giustamente hai parlato di due tipologie di possibili dipendenze ripeto uso sempre il possibile perché non è una correlazione lineare è un rischio e quindi tu hai parlato ok di rischi possibili a livello economico ma anche il tema del tempo cioè ci sono dei giochi che più giochi più accumuli monetine piuttosto che non so altre cose che ti permettono di procedere quindi tu sei invogliato di utilizzare più tempo all'interno di quel gioco ecco rispetto a questo tema di possibile dipendenza nella tua esperienza di osservatore di queste dinamiche che cosa potresti consigliare ad un adulto cioè quali sono i campanelli d'allarme ai quali un adulto dovrebbe stare attento allora ti ringrazio intanto Lara per aver sottolineato il fatto che esiste un possibile rischio fra l'altro voglio ribadire un'altra cosa tutti i videogiochi che abbiamo citato nella puntata precedente non sono minimamente connessi neppure a questo possibile rischio proprio perché se uno compra un videogioco narrativo che ha un inizio e una fine anche di quelli con i grandi mondi aperti che possono durare decine e decine di ore comunque sia non si innesca cioè è difficile che si inneschi questo rischio di dipendenza i videogiochi di cui stiamo parlando oggi ripeto sono di solito quelli che si aprono al mercato cosiddetto multiplayer del multigiocatore online questo rischio sono giochi che io non amo particolarmente non solo perché c'è questo rischio ma perché secondo me hanno meno da dire in determinati casi rispetto agli altri prodotti e questo rischio è molto concreto anche e soprattutto su piattaforme mobile quindi su smartphone e tablet ora i giochi che ho citato si giocano su console FIFA Call of Duty in realtà Fortnite esiste anche in versione mobile ma soprattutto su smartphone ci sono tantissimi appunto cosiddetti free to play che poi hanno meccaniche di monetizzazione molto aggressive e poi hanno anche il vantaggio che appunto lo smartphone ce l'hai sempre in mano e quindi è molto più agevole esatto il dicevo il rischio c'è ed è concreto soprattutto nei più giovani il suggerimento che io appunto posso dare è di guardare questi due elementi da una parte la soglia di spesa cioè dalla loro parte impostare una soglia di spesa mensile e da una parte impostare una soglia di tempo perché ripeto molti di questi giochi hanno anche questo meccanismo che ti permette di guadagnare moneta non reale ma agli occhi di chi gioca reale quanto quella vera il problema è che tu per guadagnare questa moneta investi una mole di tempo che molto spesso diventa problematica e quindi quando si parla di bisogna sempre stare attenti anche quando si parla di dipendenze esiste da una parte la ludopatia che è proprio legata al gioco d'azzardo e in effetti le loot box potrebbero anche andare in quella direzione perché innescano questo meccanismo in cui si spende sempre di più quindi la ludopatia vera e propria è proprio legata anche a quanto si spende per quel prodotto e quanto si riesce a controllare la propria soglia di spesa ci sono poi anche altre situazioni in cui semplicemente si gioca troppo e queste situazioni vabbè non sono solo e soltanto legate ai modelli economici ci possono anche essere delle situazioni in cui si gioca troppo perché si vuole scappare da qualche situazione reale non particolarmente piacevole perché si trova invece magari una community molto accogliente e in quel caso potrebbe anche non essere cioè è giusto operare un controllo ma potrebbe non essere sbagliato concedere qualche ora di gioco in più perché come dicevo l'altra volta le piazze virtuali sono comunque dei luoghi di incontro e se qualcuno si trova bene con le altre persone che le frequentano cioè nel senso non c'è veramente niente di male a passare qualche ora in più quindi di nuovo informarsi con chi gioca parlare con chi gioca però ecco i due elementi da tenere sott'occhio sono tempo di gioco e soglia di spese grazie a questo proposito Eusebia porta un'altra domanda dice per l'impostazione della soglia di tempo potresti consigliare qualche app per Android Eusebia mi coglie impreparato ci sono delle app io però non avendo figli e non usandole e impostando le mie soglie di tempo autonomamente non non ho adesso un nome da darle ma cerco di rimediare mentre parliamo Allora Francesco mi pare di capire comunque che quello che tu hai appena detto se volessimo riassumerlo cioè tu dici la regola base da concordare con i nostri ragazzi è proprio concordare una regola ossia sia sul tema della spesa massima mensile o ogni tot sia in termini di tempo da passare sul gaming la soluzione più concreta è quella di concordare insieme un tempo uno spazio un borsellino virtuale per mettere delle regole chiare affinché i nostri ragazzi le conoscano queste regole e quindi sappiano muoversi all'interno di quel perimetro che è stato concordato prima di iniziare una determinata attività a questo proposito ti volevo fare un'altra domanda perché tra l'altro Claudio cita questo tema era un tema che era uscito già l'altra volta che è il cosiddetto peggi allora per chi non è abituato a giocare cosa si intende per peggi e ne approfitto anche per porti diciamo la riflessione di Claudio che dice ricordiamo che esiste il peggi anche per i free game quindi l'account di un giovane di 11-12 anni è schermato dalle microtransazioni allora per chi conosce meno questo mondo perché l'obiettivo di questo incontro è proprio far conoscere questi aspetti cosa si intende per peggi allora peggi è una sigla che significa pan european game information ed è uno strumento di controllo che in effetti può essere utile ma appunto non esaustivo nel senso che è sempre necessario integrarlo con una migliore consapevolezza del prodotto è semplicemente proprio per semplificare al massimo quel numeretto che si vede in basso nell'angolo delle copertine dei giochi che si acquistano è anche vero che ormai è molto difficile cioè è sempre più diffuso anche il mercato digitale quindi il gioco non si acquista più in copia fisica quindi è anche importante magari controllare trovare quel numeretto all'interno delle pagine dei giochi degli store quindi delle piattaforme di distribuzione delle varie console o su pc ci sono cinque soglie cinque soglie che identificano idealmente la fascia di età a cui il videogioco specifico è destinato o comunque la fascia di età che lo può giocare senza problemi sono tre sette dodici sedici diciotto ovviamente anni a seconda degli elementi che si trovano all'interno del gioco per esempio violenza esplicitamente operata contro altri esseri umani nei giochi di guerra oppure violenza fantasy nei giochi non lo so dei giochi di ruolo queste grandi avventure medievali in cui si combattono goblin e altre creature fantastiche ovviamente la violenza della guerra impone diciamo un bollino diciotto più la violenza fantasy invece oscilla fra i dodici e i sedici a seconda anche dell'aspetto stilistico insomma del gioco quindi magari c'è un gioco in cui c'è violenza fantasy ma molto cruda di solito si va verso i sedici anni giochi sportivi giochi di auto di solito invece sono bollati con il peghi 13 i peghi 3 3 scusate perché sono idealmente dati a tutti l'importante però è capire che uno questo non è un'indicazione della difficoltà esistono titoli con il bollino 3 che sono indigeribili per chiunque abbia meno di 12 anni perché sono proprio molto complessi nelle meccaniche due non è neanche vero che questa indicazione è appunto completamente esaustiva dei rischi che si possono trovare intanto è sempre specificata dalla presenza di altri bollini che indicano appunto violenza fantasy temi legati alla discriminazione insomma temi particolarmente complessi due non non c'è mai un'indicazione non c'è quasi mai un'indicazione sui sistemi di monetizzazione extra per esempio FIFA 21 che è un gioco di calcio ha il bollino 3 con la specificazione che ci sono dei sistemi di monetizzazione extra in rete ma senza che ci sia un'indicazione concreta su quanto rischiosi possono essere questi sistemi quindi il page è un'indicazione importante non è assolutamente legalmente cioè non ha un valore legale perché i negozi di videogiochi possono comunque vendere i giochi con la scritta 16 più 18 più anche i minorenni non c'è nessun problema lo possono fare e non è esaustiva quindi è importantissima va osservata però bisogna sempre sempre conoscere il prodotto perché ci sono dei rischi e degli elementi che vanno molto oltre il page quindi io ringrazio Claudio e sono contento che lui lo conosca perché purtroppo questo sistema non è molto conosciuto dai genitori nonostante gli sforzi anche dell'associazione Idea che è l'associazione degli editori di software italiana che sta cercando di farlo conoscere sempre di più però è importante sapere che non basta quel numero per operare un controllo sul videogioco ok quindi se ho ben capito Francesco il page fondamentalmente è una declaratoria che ti fa capire meglio in base al numero diciamo così quali sono le caratteristiche di quel videogioco ma non necessariamente esaustiva quindi è sicuramente fondamentale dare un occhio a questo aspetto conoscere i vari livelli di page per capire che differenze ci sono ho visto che anche su internet ci sono anche delle guide molto semplici che ti spiegano i vari numerini a che cosa corrispondono quindi anche a chi di voi non conosce questo strumento diciamo così insomma cercatelo e dategli una lettura perché è molto utile però come diceva Francesco attenzione perché è non sempre esaustivo su tutti gli aspetti quindi leggete fondamentalmente queste informazioni ma non fermatevi solo a queste informazioni cercate di capire comunque meglio il gioco esatto c'è comunque il sito ufficiale che è pegi.info che è molto ben fatto e che è appunto che permette di iniziare a familiarizzare non solo con i numeri ma con quelle icone che vengono chiamate descrittori di contenuto e sono quelle a cui dovete dare un'occhiata per esempio ce n'è una che con il simbolo di una carta di credito quella dichiara che ci sono delle microtransazioni all'interno del gioco però ripeto si può trovare anche accanto a pegi 3 pegi 7 quindi l'indicazione numerica dice che non ci sono tematiche particolarmente insomma problematiche per fasce di giocatori giovani cioè per giocatori di fasce di età giovane però appunto non è solo il numero che è pure colorato il 3 cioè il bollino verde quindi uno può istintivamente pensare a semaforo verde glielo posso dare a un bambino di 3 anni ripeto uno non è indicazione di difficoltà due non è esaustivo se c'è l'iconcina con la carta di credito lì bisogna operare un ulteriore controllo se c'è l'iconcina con gioco in rete anche lì bisogna operare un ulteriore controllo come si svolge questo gioco in rete gli utenti si parlano chi incontra mio figlio quando gioca a quel videogioco e anche i descrittori di contenuto vanno approfonditi perché per esempio ce n'è uno con l'immagine di un ragno che identifica c'è scritto sotto paura che identifica delle tematiche che potrebbero essere potrebbero insomma colpire un po' le fasce di giocatori più giovani però anche lì bisogna capire che tipo di paura com'è raccontata quindi deve essere può essere una lettura preliminare delle caratteristiche del prodotto ma l'approfondimento serve sempre adesso rispondo anche a ho cercato a Eusebia esatto ci sono un paio di applicazioni una si chiama Screen Time che è proprio semplice l'altra si chiama Zift Z-I-F-T sono applicazioni per Android e permettono appunto di impostare delle soglie di utilizzo del telefono addirittura o dei singoli prodotti sono entrambe gratuite c'è anche una versione premium con un abbonamento mensile con delle funzioni avanzate anche per filtrare delle parole e via dicendo quindi non hanno solo la funzione di controllo temporale ma insomma magari anche tematico quindi anche se ci sono delle dissertazioni su il multitasking esiste o non esiste Francesco ha dato prova che mentre comunque parlava è riuscito a mantenere la concentrazione per fare anche una ricerca grazie Francesco sono qua apposta mi fa piacere aiutare grazie davvero Francesco tornerei su un argomento che era stato un po' toccato l'altra volta ma che è un argomento secondo me molto molto utile l'altra volta avevamo accennato poi tu avevi detto nella prossima puntata ne parleremo di più di qualche suggerimento diciamo così per noi adulti su come possiamo orientare maggiormente l'interesse dei nostri ragazzi verso prodotti ludici più virtuosi tra virgolette e quindi già l'altra volta avevi toccato alcuni punti ecco sempre nella tua grandissima conoscenza di questo mondo quale suggerimento potresti potresti dare cioè secondo te che cosa potrebbe funzionare ad aiutare i ragazzi a spostarsi magari su prodotti un pochino più virtuosi a volte magari meno noti ma che lavorano su dei temi diversi del gioco allora il suggerimento che mi sento di dare il suggerimento centrale è quello di innescare una compartecipazione molto spesso io mi sono reso conto che le generazioni più giovani avvertono un disinteresse quasi totale da parte dei grandi diciamo così dei genitori ma insomma anche delle generazioni con qualche anno in più sulle spalle nei confronti del videogioco sarebbe bello invece no anzi io trovo che quando invece questa quest'idea viene disinnescata perché c'è qualcuno che vuole instaurare un dialogo i più giovani restano meravigliati affascinati da questi interessi e non solo hanno proprio voglia di raccontare le proprie esperienze quindi per me il suggerimento principale è quello di iniziare a raccontare farsi raccontare cioè iniziare intanto ad avere un contatto con questi prodotti e poi iniziare a farsi raccontare le esperienze dai più giovani e magari utilizzare come posso dire degli strumenti un po' retorici per allontanare i videogiocatori da esperienze che sono magari un po' iterative e condurli verso esperienze che sono più narrative quindi uno si fa raccontare si può far raccontare come sono andate le partite di Fortnite e di FIFA e poi poco a poco può nemmeno simulare ma testimoniare il fatto che sì ok quello è gioco è puramente un'attività puramente ludica però magari sarebbe bello invece avere dei videogiochi che raccontano una storia credo che quasi tutti i videogiocatori anche quelli che giocano a FIFA e quelli che giocano a Fortnite quelli che giocano insomma in multiplayer abbiano nel corso della loro carriera avuto un contatto con un prodotto che invece è più narrativo magari proprio chiedere quello cioè non hai mai giocato a un gioco che racconta una storia che mostra il percorso di un personaggio mi vuoi raccontare come è andata qual è quella storia quali sono le emozioni che hai provato e così rispostare l'attenzione e la priorità su un tipo di videogioco che è che è non solo ludico non c'è nulla di male nel fatto che esistano dei prodotti che hanno una finalità solo ed esplicitamente ludica ma insomma cercare di far capire che ci sono anche altri prodotti e che forse sono anche quelli più interessanti da condividere con gli adulti un altro elemento che riguarda sempre la partecipazione è andare alla ricerca appunto di quei prodotti che possono essere giocati insieme ne esistono sono pochi bisogna ovviamente investire del tempo e magari insomma anche buttarsi un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo insomma sopportare qualche momento in cui bisogna un po' imparare sia un po' impacciati però ne esistono tanti che hanno anche delle meccaniche molto molto semplici tanti che ho citato anche la volta scorsa e quindi adoperarsi in prima persona secondo me manda un messaggio molto molto forte un altro degli elementi un altro dei suggerimenti che posso dare è quello di magari è un suggerimento anche economico e ci sta bene in questa puntata diciamo proprio per questo è quello di guardare a quei modelli di abbonamento e sottoscrizione mensile che permettono di avere accesso ad una libreria di giochi un po' estesa ce ne sono in tutte le piattaforme su piattaforma Microsoft mi viene da citare il Game Pass un abbonamento mensile che permette di avere accesso a diverse centinaia di prodotti su piattaforma Sony c'è il PlayStation Now che è molto simile a Game Pass o il PlayStation Plus che dà due giochi gratuiti al mese anche l'idea di e sono abbonamenti che costano veramente poco si parla di una decina di euro al mese sostanzialmente per una libreria vastissima quindi magari invece che incentivare anche l'acquisto delle microtransazioni o lasciar correre l'acquisto insomma di queste loot box o incentivare l'acquisto di un singolo prodotto a prezzo pieno ok spingere verso queste forme di abbonamento che riducono il costo alla soglia di ingresso economica e ti aprono un ventaglio di possibilità molto molto vasto ovviamente c'è bisogno questo catalogo di esplorarlo con attenzione e si potrebbe un genitore lo può fare insieme quindi semplicemente una volta che io lo può fare anche come regalo ti pago l'abbonamento per un mese a questo servizio che ti permette di accedere a tutti questi giochi il costo è veramente basso si siede accanto al figlio e insieme esplorano insomma questo questo catalogo magari andando alla ricerca stando sempre attenti al pegi di quei videogiochi che hanno delle tematiche giuste per una certa fascia d'età e cercando quei giochi che hanno magari un colpo d'occhio un po' più interessante un elemento estetico che recupera una certa corrente pittorica oppure insomma anche delle meccaniche che permettono di giocare in coppia anche qui partecipazione con partecipazione è la parola chiave però appunto ci sono modi che permettono di non spendere quasi niente e di avere tante possibilità di fronte a sé l'importante è quello di volerle esplorare ecco grazie Francesco per questo ultimo tuo consiglio che fondamentalmente è quello di aprire uno spazio ad un ventaglio di possibilità maggiore quindi sperimentare nuove strade insieme e capirle anche un po' insieme quindi scoprirle insieme in modo da non andare su degli schemi che magari sono solo quelli più diffusi ma aprirsi anche ad altre possibilità un altro suggerimento è quello anche di noi abbiamo parlato sia nell'altra puntata che in questa di content creator quindi di chi il videogioco lo racconta io sono un critico e lo racconto anche attraverso delle recensioni ma anche il nostro canale youtube e twitch diciamo è molto molto attivo e quindi molto spesso ci troviamo anche in diretta a giocare dei videogiochi ma ormai su twitch ci sono decine di content creator che mostrano la più ampia gamma possibile di videogiochi anche lì è possibile orientare un po' diciamo le preferenze dei più giovani è molto facile che uno che arriva su quelle piattaforme veda anche per il numero di spettatori connessi chi sta giocando al gioco di guerra al gioco di calcio è molto molto semplice ma ci sono anche tanti altri creator che invece giocano delle storie raccontandole e interpretandole quindi anche suggerire dei creator dei dei giocatori che raccontano titoli diversi può assolutamente aiutare e anche in questo caso la piattaforma va esplorata un po' bisogna mettersi su twitch una sera cercare i canali in italiano guardare chi ci sembra possa raccontare il videogioco in una certa maniera con un certo linguaggio e magari suggerirlo se tanto ormai le nuove generazioni su twitch o su youtube ci sono senza ombra di dubbio magari un suggerimento inaspettato da un genitore che ti dice ma perché non guardi questo canale io l'ho visto e mi interessa potrebbe assolutamente cambiare le cose e allontanare insomma da un certo tipo di giochi per aprire diciamo a prodotti che invece sono più impattanti e potenti sul fronte insomma delle tematiche e del racconto grazie grazie francesco chiederei ai nostri al nostro pubblico se avete domande le potete se avete altre domande rispetto a quelle che avete già posto di inserirle all'interno dei commenti in modo da dare spazio alle vostre curiosità sì sì aspettiamo assolutamente le domande del pubblico io spero che insomma comunque sia con questi strumenti io credo che si possa operare una forma di controllo anche molto precisa e puntuale e insomma si possa anche orientare un po' sia possibile orientare le preferenze dei più giovani quindi insomma mi auguro che che questi spunti vengano colti perché fidatevi ce lo dico a tutti i genitori c'è davvero la possibilità cioè questo questo mercato questo questo medium è un medium potente e che diventa sempre più importante nella cultura e nella formazione anche socioculturale delle nuove generazioni e quindi dare per scontato che visto che apparteniamo a una generazione diversa non si possa mescolarsi un po' anche con questi prodotti è la cosa più sbagliata da fare basta un po' di impegno un po' di ricerca per potersi mescolare attivamente e come dicevo prima compartecipare anche diciamo alla crescita dei propri figli allora vedo che domande non ne stanno arrivando quindi probabilmente abbiamo esaurito il tema Francesco io ti ringrazio nuovamente come l'altra volta per per i tuoi spunti per i tuoi suggerimenti per i tuoi esempi concreti ringrazio tutti i nostri i nostri partecipanti che hanno seguito che hanno seguito questo intervento Eusebia ringrazia e dice spunti utilissimi quindi ricordo a tutti che sui canali sui canali social facebook e linkedin di fast web potete recuperare sia la puntata della volta precedente se non l'avete vista ma in generale anche tutte le altre dirette che abbiamo fatto sul tema connessi contro il bullismo lo riconoscete dall'hashtag connessi contro il bullismo che appunto toccano aspetti molto diversi tra di loro quindi se non ci sono ulteriori domande ringrazio Maria Civita e Fiorella che ci hanno accompagnato anche questa sera in questa diretta ringrazio nuovamente tutti i partecipanti e riprenderemo in autunno adesso chiudiamo diciamo così per la pausa estiva quindi riprenderemo in autunno con altri con altri temi ringrazio ancora Francesco e auguro a tutti una buona serata e ringrazio per la partecipazione buona serata ringrazio per la partecipazione